Come console generale d'Italia Valona mi fa molto piacere dire due parole su Valona, su questa città che è la seconda città dell'Albania, proprio la capitale tirana, direi insieme alla città di Durazzo. Valona è una città appunto posta nella regione meritoriale dell'Albania a 140.000 abitanti circa. È una città di mare, molto dinamica dal punto di vista commerciale. È una città ricca di storia, di risorse naturali, turistiche, paesaggistiche, molto bella quindi anche da visitare. Direi che è una città italiana come stile, come aria che si respira. Tra le città albanesi forse è quella più vicina all'Italia, alla sua cultura. E quindi come consolato possiamo dire che è una città dove gli italiani si trovano molto bene. È una città che ormai è molto tranquilla, da diversi anni peraltro. C'è un fiorente commercio, ci sono alcune aziende, industrie importanti. Ci sono imprese italiane, investitori italiani che hanno già investito in questa zona, che stanno operando nella città di Valona. E questo naturalmente è una prova, un'ulteriore conferma del fatto che Valona è una città dove gli investimenti italiani funzionano bene. Direi come consolato la città è veramente aperta agli italiani sotto tutti i settori, in tutti i campi e in particolare alle imprese. Anche tenuto conto del fatto che la stragrande maggioranza delle imprese, dei negozi e degli esercizi di Valona già commerciano con aziende italiane, si riforniscono dall'Italia di prodotti di vario genere, dagli alimentari ai prodotti per uso domestico, alle tecnologie, ai macchinari industriali. Quindi è una città che per l'Italia ha un afflato particolare, un'amicizia particolare. In questo senso può essere ulteriormente sviluppata sotto il profilo degli investimenti italiani. Qui le autorità locali collaborano costantemente con noi, autorità diplomatiche italiane, sia col consolato che con l'ambasciata. Quindi c'è un dialogo continuo con le autorità locali e centrali albanesi. Dal punto di vista economico, il progetto del parco industriale di Valona, sviluppato da IdeaVlora, è un progetto interessante, molto importante, che sicuramente può essere sfruttato anche dal punto di vista delle relazioni economiche tra Italia e l'Albania, per tutte quelle imprese che stanno cercando di allargarsi nei mercati internazionali, in particolare nell'area dei Balcani. Proprio perché il parco industriale di Valona sarà un punto molto interessante anche dal punto di vista logistico, di espansione verso tutti i Balcani, per quelle aziende italiane, per quegli imprenditori che abbiano voglia di allargarsi al mercato non solo albanese, ma anche dei paesi limitrofi, la Macedonia, il Kosovo, il Montenegro, la stessa Grecia volendo. In questo senso, come consolato, abbiamo molto apprezzato il progetto del parco industriale perché credo che sia un'opportunità davvero unica sia per Valona come sviluppo economico futuro, oltre a quello del turismo che rappresenta una naturale inclinazione e vocazione della città di Valona, ma un'opportunità unica anche per le imprese italiane interessate ad operare o ad entrare in questo mercato. Dal punto di vista delle risorse, delle caratteristiche di Valona, le strade, i collegamenti stradali verso la capitale sono in via di perfezionamento, c'è una superstrada che collega Valona con Tirania che sta per essere ultimata in alcuni tratti ancora per i quali sono aperti ancora i cantieri, ci sono collegamenti via mare con la città, col porto di Brindisi, e quindi è una città tutto sommato molto ben collegata. Voglio fare presente che ci sono appena 75 km circa di mare tra Valona e Brindisi, forse anche per questo la città di Valona risente molto dell'influenza italiana. Un altro fattore che le imprese italiane possono tenere in considerazione per proprio interessamento nel venire a Valona è quello linguistico. La stragrande maggioranza degli abitanti di Valona parla, capisce senz'altro, ma parla anche l'italiano. Ci sono moltissime scuole dove si insegna la lingua italiana, quindi dopo l'albanese, che naturalmente è la lingua degli albanesi, la nostra lingua, la lingua italiana, è la lingua più diffusa nella città di Valona. Grazie.